Ciao a tutti, sono Lorenzo, un grande appassionato di enogastronomia. La mia storia di sapori nasce nel 2008 circa, quando ho frequentato il corso sommelier, AIS, e da lì tutto è nato, diciamo. Sono un maniaco proprio, diciamo così, del settore gastronomico e enologico. Mi trovo qui al Vinitri 2014, grazie al Consorzio Vini Tutelare del Soave, dove ho trappreso un mini master in wine marketing, e grazie a loro sto vivendo questa grande esperienza. Posso dare magari un consiglio sul mio vino preferito, che è il Durello Lessini di Vini Casarotto, e abbinabile sicuramente con un antipasto, con un primo piatto leggero, o favoloso come aperitivo. Grazie a tutti, buon Vinitri.